Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Garcini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori si segnalano rallentamenti tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est in direzione Livorno. Per questi lavori svincolo di Montelupo Fiorentino chiuso in entrata in entrambe le direzioni e in uscita provenendo da Firenze. Il traffico invece scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana. Spostandoci in A1 verso Bologna a chiusura ai mezzi pesanti di massa superiore a 7 tonnellate e mezza del tratto tra il bivio con la variante di varico Baccheraia e Aglio. Rallentamenti tra Calenzano e Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di varico Baccheraia sempre verso Bologna. Tratto chiuso per lavori tra Aglio e Rioveggio in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!